Cristian De Sica è una vecchia conoscenza di Miss Italia, anche papà ha partecipato a questo concorso da giurato Vecchio perché sono vecchio, vecchia conoscenza Mio padre l'ho saputo pochi giorni fa che è stato proprio uno dei primi giurati della prima edizione di Miss Italia Poi ho fatto parte del Miss nel mondo, credo nel 2007-2008, che era 2009? Ah prima, 2003? 2006 insomma Ecco 2005 insomma e adesso quest'anno mi hanno portato qui in giuria e sono molto contento e vedevo le ragazze che sono quest'anno veramente stupende Beh è una bella festa perché è una festa della bellezza, della gioia E poi quello che ho detto anche in conferenza stampa è che di solito si dice che le belle sono cretine Invece non è vero, le brutte spesso sono cretine, le belle sono intelligenti Quindi mi fa piacere essere oggi qua e speriamo di divertirsi e soprattutto di divertire il pubblico che ci vedrà in televisione Grazie a voi